Ciao a tutti, oggi vi parlerò dell'olio. L'olio si può utilizzare per il viso, si può utilizzare in sostituzione alla crema viso oppure in aggiunta alla crema viso oppure si può utilizzare addirittura come struccante o detergente. L'olio, a differenza di quanto si pensa che magari può essere unto a livello della pelle, ha un'affinità altissima con il sebo per cui possiamo andare a trattare dalle pelli più sensibili, a quelle ad esempio con cuperose, alle pelli più impure perché va a sciogliere tutte le impurità di trucco massaggiato sul viso dunque per la prima detersione e ha un'affinità molto elevata con il sebo per cui va a togliere il sebo in eccesso e tutte le cellule morte senza dover aggredire la pelle magari con prodotti troppo astringenti e troppo aggressivi con cui si tratta molto spesso la pelle più impura. Dunque noi non andiamo a trattare solo la pelle più delicata, ma anche la pelle più impura perché ha bisogno comunque di essere trattata in modo delicato per cui si può utilizzare l'olio massaggiato sul viso per andare a togliere le impurità di trucco e anche il sebo, poi si toglie con un pannetto in microfibra oppure di bambù, si strizza bene sotto l'acqua, si bagna con l'acqua e poi si strizza bene, si passa e poi si procede con la seconda detersione con un latte, un prodotto un po' più schiumogeno sempre in base al tipo di pelle, poi con il tonico sempre in base al tipo di pelle e poi si può dare l'olio che abbiamo utilizzato per la prima detersione anche come siero viso in sostituzione alla crema viso oppure si può dare in aggiunta alla crema per renderla un po' più idratante. Vi consiglio durante il periodo invernale di utilizzare una crema idratante con l'olio, di massaggiare bene sempre con il massaggio antigravità dunque dal basso verso l'alto per migliorare la circolazione ma anche per vedere la pelle molto più sana, con un incarnato più vivo ma anche in estate mi raccomando sempre la protezione solare, una 50 per evitare macchie sia causate dall'esposizione al sole sia anche causate da uno squilibrio a livello ormonale per cui l'olio si può aggiungere dentro ad una crema viso magari con protezione 50, vedrete proprio la pelle molto più idratata e luminosa.